Ciao a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video Oggi farò un video su Fortnite Dedicato solo a Fortnite E vi ringrazio per gli 11 iscritti che mi avete dato Perché dovete sapere che io ho 11 iscritti Ora facciamo singolo e tentiamo di fare la vittoria reale Facciamo o ammazziamo oppure camperiamo Facciamo questo Cioè noi sarebbe camperiamo Però quello che ci troviamo Casomai ci troviamo uno davanti Lo ammazziamo subito, subitissimo Ok, facciamo tipo nascondino Poi io prima un giorno io non avevo queste cuffie Le ho comprate a Natale Me le hanno regalate a Natale Usavo le cuffie quelle lì del telefono Ho trovato anche un nuovo piccone Che è questo qua Vedete? È fantastico Mamma mia E che è quel polpo? Ok Voglio andare Nella zona ghiacciata Voglio stare più o meno nella zona ghiacciata Ho preso anche un nuovo paralute che mi ha scioppato il pass Nel questo paralute serpente Che con lo zaino serpente è fighissimo Perché sembra che lo zaino serpente Apra il paralute serpente Andiamo al ponte Dai Il ponte ha una tassa Allora Secondo me questa città è luttata Comunque l'effetto che fa quando prendi gli scudini E lo scudo grande Il cerchio giallo è fantastico Wow raga stiamo trovando tutte le armi verdi Non so se lo vedete In basso Scrivetemi sotto nei commenti Se io dovrei tenere più armi verdi O più armi leggendarie Ovviamente credo che scriverete Le armi leggendarie sono le più forti Facciamoci un po' di materiale Ovviamente avete notato che riesco a costruire un po' di materiale Per costruire meglio E' la prima cosa che vi faccio a costruire un po' di materiale o già un'armagliota raga siamo fortunati questo è il cecchino di precisione questo è un cecchino di mega precisione perché più preciso io direi maniamo questo lo safe non è neanche troppo lontana no io la geosfera rompo non so se ritornare a prendere la geosfera perché poi le risponono una cosa è certa abbiamo trovato una delle mie armi preferite non so se ritornare guardami che è lottato andiamo in safe ragazzi abbiamo le armi giuste però prima lottiamo questo questo qua stiamo compiendo una missione vedete qualcosa in alto è uno che ci segna che abbiamo fatto una missione in questo caso è la missione visita tutti i covi dei pirati ed è anche abbastanza vicino alla safe e vedete ok 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 grazie al cannone siamo andati nella safe ripeto vi ringrazio per gli 11 iscritti abbiamo compiuto un'altra missione prendiamo l'overboard di tanto intanto di tanto intanto e poi ok 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 E questo è il trick che faccio con lui Vabbè per fine Oggi è finito il video Ciao